Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Giorred e oggi parliamo di Amici 20, la finale, San Giovanni vince la categoria di canto. E' andata in onda l'ultima puntata di Amici 20, la finalissima. Cinque erano i finalisti di questa edizione che si sono contesi il titolo di vincitore di Amici 20, ovvero Alessandro, Debbie, H7, San Giovanni e Giulia. E proprio quest'ultima è la vincitrice di questa edizione che ha soffiato il titolo al suo ufficiale fidanzato San Giovanni che è arrivato secondo. Infatti i due si sono scontrati nella sfida finale, ma San Giovanni essendo l'ultimo rimasto per quanto riguarda la categoria di canto si porta a casa il titolo di vincitore categoria canto Amici 20, portandosi a casa il monte premio di 50.000 euro in gettoni d'oro. Quest'ultimo si è portato a casa anche il premio team della critica di 50.000 euro in gettoni d'oro. E non solo, ha anche preso il premio della SIAE e il premio della radio. E voi? Siete contenti di questo risultato di questa edizione? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joreb.